Quattro minorenni, di cui due di origine albanese, si erano dati appuntamento nei pressi dello stadio comunale di Arezzo. Non si sarebbero mai aspettati che il loro passatempo preferito avrebbe attirato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato. Il reato di cui si sono macchiati è quello di procurato allarme, porto abusivo di strumenti riproducenti armi e riunione in luogo pubblico senza aver inoltrato regolare preavviso all'autorità. Tutto nasce da un video pubblicato sul web e forse destinato anche a diventare virale. Quattro ragazzi, la cui data di nascita è compresa tra il 1997 e il 2000, avevano imbracciato armi finte, mancanti però dei regolari segni distintivi della loro incapacità offensiva e si erano poi diretti verso lo stadio comunale seguiti da un gruppo di compagni e qui avevano inscenato una rappresentazione di guerra. Urla incomprensibili, con in mano le armi giocattolo, servivano ai quattro per realizzare il proprio video da postare sul web e sui propri canali social. Il video, poi rimosso, ha messo in allerta gli agenti della Polizia di Stato che alle prime luci dell'alba si sono presentati a casa dei quattro minorenni per i quali è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria.